Percorsi di legalità, diciottesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il progetto di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità delle scuole della provincia di Chieti promossa dalla prefettura, dall'ufficio scolastico provinciale e dalla rete scuole della provincia. Presso il teatro super cinema di Chieti la manifestazione parole, musiche, immagine, interventi, filmati, recitals, drammatizzazione a cura delle ragazze e dei ragazzi delle scuole della rete. L'evento è stato condotto dal giornalista Stanislao Liberatore e è intervenuto l'avvocato Marco Alessandrini, figlio di Emilio Alessandrini, sostituto procuratore della Repubblica, assassinato a Milano dal gruppo terroristico Prima Linea il 29 gennaio del 1979, da anni impegnato sui temi della memoria e della legalità. Un contatto con le giovani generazioni che mi sembra riempie di contenuto questa mattinata perché in fin dei conti tutto questo è finalizzato ad evitare che in futuro si possano ripetere circostanze del genere, violente, luttuose per le persone, per il paese, per le istituzioni. Allora siamo qui a riflettere su ciò che è stato affinché non accada mai più. Vapà per te è stato un esempio di vita per questi ragazzini e un esempio di come vivere? Sebbene sia una definizione che non mi piace molto però penso che sia insomma un eroe borghese per usare il titolo di un celebre libro di Corrado Stajano dedicato alla figura dell'Avvocato Ambrosoli, ossia una persona che nella sua breve esperienza terrena ha comunque lasciato un segno con l'impegno professionale e con una fiammella del ricordo che teniamo accesa. L'intento del progetto è quello di contribuire a consolidare tra gli studenti il valore della legalità democratica, l'importanza della comprensione della cultura delle regole e della consapevolezza del ruolo della scuola per un'azione pedagogica attesa alla formazione delle nuove generazioni e alla promozione della cittadinanza attiva, responsabile e consapevole. Prof, cosa faranno questi ragazzi fra poco? I ragazzi interpreteranno un'intervista immaginaria al giudice Emilio Alessandrini, il ragazzo che interpreterà la figura di Emilio Alessandrini è Dimitri. Che idea ti sei fatto di questo personaggio e dovendolo poi interpretare? Questo personaggio è stato un personaggio molto importante che ha avuto coraggio di combattere la mafia e quindi ne siamo rimasti molto affascinati e per questo abbiamo rappresentato questa piccola recita.